Questo programma è stato presentato da Yannick Sinner e De Cecco, numeri 1 La Casa Acrobatica presenta Se potessimo condividere il piacere di stare insieme Assaggia! Come la faccio io non la fa nessuno! Ristruttura il tuo condominio con Acrobatica Possibilità di finanziamento fino a 160.000 euro Forte per natura Invincibile per scelta Super Titanio è solo Citizen Le parfalle azzurre volano verso l'ultimo spettacolare appuntamento prima delle Olimpiadi di Parigi La finale della World Cup In diretta dall'Unical Forum di Milano Domenica 23 giugno Dalle 14 Sulla 7 e la 7.it Hai sentito la novità? Oggi la forza dello sgrassatore Chanteclair è anche nel nuovo detersivo lavatrice Con formula potenziata che unisce l'efficacia del detersivo alla potenza dello sgrassatore Chanteclair Anche contro le macchie più difficili Hai visto che pulito è incredibile? Chi pulisce più di Chanteclair? Chanteclair, il gallo del pulito Anche noi abbiamo le ali Sono ali mosse dalla passione Ogni volta che ci apriamo la vita E non importa quanto grandi siano queste ali Ma dove riescono a portarci Matt Nutre il tuo benessere Ragazzi, oggi dobbiamo vincere Voi due mi andate in contropiede E voi... Ma voi siete quelli di Immobiliare.it I numeri uno Immobiliare, Watson Bene Allora andate in porta Dai ragazzi, dai! Ma non eravate i numeri uno? Sì, ma per vendere e comprare casa Scaricala Immobiliare.it Un 5 per la ricerca Un 5 contro i tumori Un 5 per trovare nuove cure Un 5 per Fondazione Umberto Veronesi Sostenere la ricerca è facile Come dare un 5 Dacci il 5 Nella dichiarazione dei redditi Destina il tuo 5 per 1000 A Fondazione Umberto Veronesi Dove sei ora? Cornetto Un'estate da scartare insieme Ci rivediamo dopo la prova Pronto? Mi senti? Sì, davvero molto bene Mi sentite? Davvero molto bene Allora, sente bene? Sì, davvero molto bene Sentire bene Sentirsi bene Prenota ora il controllo dell'udito gratuito Chiama 800 500 700 ProRaso Dove c'è un barbiere? Acidità, reflusso, difficoltà di digestione Sara, puoi scegliere un prodotto che agisce rapidamente Puoi provare Neobianacid Con la sua formula Rispetta il tuo stomaco E l'ambiente Neobianacid Da aboca Hai sempre saputo Ogni grande avventura Ha il suo supereroe Viaggia verso mondi favorosi Con nuovi poteri straordinari Nuova Vitara Hybrid È qui Supereroe Ogni giorno Suzuki è tecnologia da incentivi Fino a 14.500 euro di vantaggi Suzuki Questo programma è presentato da Uro Germine Prostata Contribuisce alla funzionalità della prostata e delle vie urinarie Uro Germine Prostata Funziona e si vede Uro Germine Prostata Da Puffarma in farmacia Uro Germine Prostata Uro Germine Prostata Uro Germine Prostata Uro Germine Prostata